Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Prato, durante dei controlli mirati al contrasto al gioco illegale e irregolare nel distretto industriale pratese, hanno eseguito un controllo presso un internet point. Questo locale era sospettato di offrire ai clienti accesso a piattaforme di gioco non monitorate dall'Agenzia dei Monopoli e dotato di un sistema di videosorveglianza irregolare per monitorare gli accessi e permettere al gestore di bloccare da remoto le connessioni ai siti di gioco. Durante l'ispezione i militari hanno documentato con foto e video lo stato di connessione dei PC installati, scoprendo che gli apparecchi erano collegati a un server centrale che dopo il pagamento mediante POS abilitava la navigazione online senza restrizioni. Di conseguenza i militari hanno scollegato e sequestrato tutti i 15 PC presenti nel locale per permettere ai tecnici qualificati della SOGI di effettuare le necessarie perizie. L'articolo 110,9 lettera F quarter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede una sanzione da 5.000 euro a 50.000 euro per ciascuna apparecchiatura che permetta ai clienti di giocare online attraverso connessioni telematiche.